eccoci qui a Catron in una nota azienda agricola la più grande azienda agricola che abbiamo in zona per la prima volta una prova dimostrativa specializzata per la potatura meccanica queste prove sono molto interessanti perché creano un focus su una richiesta specifica dei clienti e quindi non è una fiera ma è una dimostrazione delle macchine in campo come al solito questa zona risponde bene c'è un grandissimo afflusso di persone in una giornata particolarmente calda e un po anche strana perché per essere al 14 di febbraio questa giornata è un grande premio per questa manifestazione auguriamo a tutti una buona visione e una buona scelta di macchina grazie a tutti